Qual è la virtualizzazione? Buongiorno! La virtualizzazione è che adesso mi guarderà la virtualizzazione. Qualcuno di cui vuoi usare la virtualizzazione? Per semplificare, chi non la usa? No, seriamente. Chi non la usa? Ok, allora parlerò solo per te. La virtualizzazione è che eseguire un programma all'interno del computer genera dei computer virtuali con le usorse CPU, RAM e disco per permettere eseguire altri sistemi operativi e quindi eseguire contemporaneamente sistemi operativi differenti con lo stesso supporto fisico, con la stessa macchina clinica. Questo è che negli anni 90, se bisognava installare per esempio in un'azienda un server nuovo per posire un servizio differente con la stazione si prende una macchina nuova e quindi si metteva l'armadio di ferro e diventava un po' costoso dal punto di vista della corrente e anche dell'amministrazione della gestione. Allora, a fine anno, in 2000, mi veniva avvenuto a prendere la virtualizzazione per sfoggere il numero di copriraggioni di queste necessità. Nel settore desktop ci sono variati programmi per creare macchini virtuali quindi gli ambienti di Linux sono i primi più usati di virtualbox non è l'unico, però è un'acqua vicino con me di generalmente In questo caso, che ho eseguito su una macchina attivamente Linux, ho eseguito virtualbox e probabilmente sono eseguite due macchine virtuali, una con Linux, una con Linux una risponduzione completamente differente e per i miei ambienti personali una macchina con Windows Insight Ecco, certi limiti duri, i limiti, per esempio la servizio di apprendimento per eseguire giochi, non funziona bene in realtà non ho mai trovato una macchina, però vedendo che, come gli avvisi che ho gli dato ecco, poi durante la nostra finita, sono specifici per la macchina attuale funziona un po' più amazzante, adesso un po' tirate dai capelli però, a parte questo, secondo me, le classiche funzionano tranquillamente e quindi, a parte questo, secondo me, lo vedevano ad andare a fare accesso in maniera specifica all'auto Bene, se qualcuno ha già qualche domanda, può comunque la fare a cercare la mano Un esempio che vorrei fare adesso, almeno provare, è creare una macchina virtuale da le caratteristiche del computer virtuale creato provo a creare, perché mi serve, una macchina partendo da zero qui ci sono varie preimpostazioni per diversi sistemi operativi perché possono cambiare, cambia la necessità di RAM, per esempio da un Linux con un grande molto vecchio la RAM richiesta di macchina di minore virtuale a parte di una macchina virtuale molto basso con una distribuzione più regente, aumenta la richiesta queste sono delle preimpostazioni e quindi, provo a creare una macchina virtuale a caso con, da due bit, RAM, 700 Mega e, chiedendo la, che usazione per la, per il salvattaggio sul disco che, quanti mega, quanti gigabagli richiede posso, per esempio, andare un po' più nello specifico il servizio a 64 bit è differente da quello che la macchina vale? allora, sì e no le macchine fisiche a 32 bit supportano solo 32 bit ma processioni a 64 bit possono eseguire macchine virtuali sia a 64 che a 32 bit e anche a 18? beh, ecco, ecco, ecco ecco, ecco ecco preimpostazione della RAM, questa è la più che bene qua, ehm... gli chiedo di creare un disco virtuale praticamente è il più valente di... in questo stesso questi sono diversi modi di salvattare di organizzare i dati di macchina virtuale sul disco fisico Beh, il più compatibile, bene o male, è il WMDK, il secondo. WDI è quello ideato da New World Box, però il più supportato è il WMDK. Qui manca un formato particolare, il formato RAW, che è il formato preto, che ha altri vantaggi, però ha altri svantaggi. E quindi non è supportato definitivamente. Avanti. Sì, la macchina virtuale, il WMDK, è uguale a quella di Oracle, il mio sito, o veramente così. C'è il programma virtualbox, virtualbox, nell'Oracle? Sì, perché io mi trovo, mi spiego, non so se sto detto prima. Mi trovo che il WMDK se incidirsi, e sul sito di Oracle virtualbox non c'è il senso fino al 16-18. Praticamente, quello sul sito dell'Oracle è il pacchetto precompilato. Anche dal repository. Ma anche dal repository. È uguale, è lo stesso. È la stessa versione, identico bit per bit. Ok. Però è la stessa versione. Quale è meglio per vedere i pericoli? Direi che è proprio da fare i repository, perché almeno se c'è un aggiornamento, eccetera, o un aggiornamento del card, eccetera, almeno fai tutto dal comando di aggiornamento. Qua, su Fedora, per esempio, non c'è dei repository. E quindi quando mi segnala che c'è un aggiornamento, devo andare al giorno a scaricare l'installario manualmente. La creazione dell'immagine. Praticamente lì ci sono due modi per creare il disco virtuale sul disco fisico. O creare un file che viene ingrossato man mano che la macchina virtuale aggiunge dati all'interno. Oppure creare un file da subito 20 ZB dove praticamente, siccome il file è già da 20 ZB, lo spazio è già liberato per la macchina virtuale. Dipende da cosa serve. Se una leggera vantaggio per prestazioni è con la dimensione fissa. Un disco viene già liberato per la 20 ZB e il virtual box deve andare a fare altri operazioni superflui per andare ad aggiungere dati. Quindi ha uno spazio insolato a lui che si deve essere solo da dentro. Se però bisogna fare delle operazioni un po' veloci, semplicità, o senza particolare prestazioni, basta anche la locazione dinamica. siccome ho messo la locazione dinamica, teoricamente potremmo anche mettere due terabyte, inizialmente il disco è solo 100 gigabitri. Posto. Ora, potrei eseguire immediatamente, però sarebbe come un computer vuoto, dove il dal disk è vuoto e non serve sul sistema operativo. Quello che si farebbe sul computer fisico normale sarebbe andare alle dimostrazioni del BIOS. Qui non ci sono impostazioni del BIOS particolari, quindi potrei andare sulle tabelle di mostrazioni, dove si trovano variate caratteristiche. Per esempio qua, cambiare caratteristiche della macchina virtuale. Se devo eseguire qualche programma abbastanza intenso, potrei per esempio dire a virtual box invece che per questa macchina, invece che riservare un solo processore, riserva di due o tre. Questo di base a quanti processori ci sono portati. Con giusto, che rossolaggio. Ah, volevo sapere, se tipo, adesso non so se erano 3, adesso non mi ricordo, ma teni conto dell'hp3ling? Si, dell'HT, si. Cioè, se ho metto due CPU, quindi una fisica e una... No, praticamente, devi immaginare che comunque la... per far funzionare bene le robe. Quando dici un processore, quel processore è un pirodeica, ha quella macchina virtuale. Progresti fa eseguire su un processore otto macchini virtuali. Ovviamente tutte si adeguano di grasso e basso per il disegnamento. Si. Non è che si genera il potenzio di casco. No, ma... E... Si, volevo capire virtual box quanto consuma a... per far andare le macchine virtuali. E' un argomento un po' complicato perchè non c'è solo virtual box ma c'è tutto il sistema host. C'è tutto il sistema archivo principale che legge la macchina. Quindi non c'è una risposta semplice. Ascolta, visto che stiamo parlando di questo... Mi fanno rinunciare il nastro. Eh... Eh... Pazienza. Visto che l'indica quattro senti in un... Questo dipende dalla macchina host. Si. Quindi è automatico in base alla macchina. Quindi otto... Si. Un sentici dipende, insomma. Se non avesse... Si. E... Dipende da quante... fisicamente cosa sarà la macchina. Per due ore, i per credi, sarà da quattro... Questo carrettone... Eh... E... Due... Due più due è quattro. Vabbè... Considera CPU anche in per prende, giusto? Eh... In effetti... Ah... Eh... Si. 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 Quello che... Se potevo calchiere se gli do due processori, ne darà uno fisico e uno... Un fisico. Mmm... Ok. Perchè pensiamo un'altra cosa. Si. Cioè... Cioè... È... È... Come se per la maniera virtuale... Ne andai due due. Si. Il numero di socket e il numero di processori accessori. Allora... Due processori... Ovviamente... Per far tenere bene le cose... Eh... Come regola impirica... Un... Un processore bisogna mantenere lo per il sistema... Per il sistema principale. Eh... Se si vuole lavorare in maniera tranquilla... Se si vuole fare esperimenti... O vedere... A che punto si blocca tutto... Si possono eseguire... Questi manuali virtuali... Su... Qua... Un processore. Dipenderà anche dal sistema... Scusa... 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 Un arrivo solo... Dipenderà anche dal sistema... Cioè... Se voglio dire... Se il sistema che tu lanci... È molto snello... Un picchio dei... Si... 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 Allora... Tu puoi lanciare anche 10... Si... Si... Però... Tutte volte... Quando 10 si capiranno... Eh... Se voglio dire... Se tu hai tanti pezzettini piccoli... Ti faccio un esempio... Ti fanno posta elettronica... Faccio un esempio... Router... Macchine virtuali... Con... Router... Eh... Che... Generalmente... Eh... Richiedono poca... Poca memoria... Sì... 32 Mega... E posso... Eseguire... Una regina di macchine virtuali... Che tutte fanno pochissimo... Certo... Però... È per... Eh... Test... Se... Ovesse... Può vendere un servizio... O dare una certa affidabilità... Tirare così in collo... Non va bene... No... Però al limite... 3-4... 100... Di piccole... Dipende sempre... Da quanto vuoi... Da più livello... Di servizio... Puoi assicurare... Ai tuoi clienti... Quanto è stesso... Dipende... Ok... Il libro è... Marco... Quello potenisce... Può andare benissimo... Appena c'entra... Poi se lo farà... Di... Reatto... No... No... Di servizio... Di servizio... Di servizio... E... E... Poi... Altre... La quantità di... Di minori... Amante... Devo eseguire... Per... Ti voglio riservare... Per la macchina... Se devo fare... Se devo... Usare... Il programma... Non mi trovo bene... Perché... Non mi trovo bene... Su quelli che ci sono... Su Windows... E... Hanno bisogno... Un po' di video... Di run... Build... Un po'... Di più... E allora... Qua si gioca... Su questi parametri... Sforgiare... La memoria RAM... Vost... Cioè... Sforgiare... Come la memoria RAM... Che mette USB... No... No... Cioè... Vost... La memoria RAM... È completamente differente... Di variarti... Ogni grandezza... Infatti... Quando... Il computer... Comincia a sbappare... Non si dice... Anche se... S... No... Perché comunque... Le velocità... Sono molto differenti... La velocità del senso... Lettura... Completamente... Differenti... Eh... Schermo remoto... Esplicamente... È una funzionalità... Per... Eh... Dare... possibilità di eseguire qua la macchina virtuale ma da un altro computer collegato in rete poter aprire la finestra di Lexus remoto e lavorare in remoto sulla macchina virtuale che viene eseguita qua questo sarebbe da parte che io utilizza il CPU grafico oppure... mi sa proprio di no usa sempre la RAM non ho mai indagato però mi sa che usa la CPU normale c'è una sezione delle impostazioni video che è la scusa le impostazioni del video grafica c'è la selezione 3D a 2D ma questa è per la celda di teatro ma non per la RAM video a RAM ascolta Cristi spiegami quello che stavi dicendo adesso che non ho spiegato bene perchè non ho mai usato il fatto di poter usare in remoto la macchina virtuale che invece lavora in un'altra macchina questo non ho capito allora hai mai lavorato con terminali? si benissimo serva centrale molto potente e i terminali con risorse si collegano la lavorazione principale la fa quindi questa è la stessa cosa la macchina virtuale gira fisicamente qua però hai un computer molto poco potente e invece di usarlo direttamente la ha più collegamento in dextro per moto praticamente mostrando la schermata che c'è su un computer remoto come l'accesso c'è l'SSH? utile? si quello è in terminali proprio con il mouse però la differenza è che qua in dextro per moto di virtuale box non richiede di intervento sul sito operativo tipo su windows devi attivare l'assistenza remota consapevole di piuver eccetera e già non funzioni collegato in dextro per moto quindi quindi no il D è quello della macchina fisica ti colleghi come se fosse un server dextro per moto mettevi il diritto della macchina fisica al limite praticamente posso installare un DOS in macchina virtuale siccome non esiste il dextro per moto del DOS senza usare SSH mi colleghi il dextro per moto del virtuale box per lavorare su un DOS ma schermo remoto non lo sconenti a particolare i detti di protocollo nel senso il virtuale box di schermo remoto che la macchina fisica si lo servono tu clienti la funzionalità di schermo remoto in questo caso è una dextro per moto il protocollo è la verifica non è un UADC comunque è il mac address della macchina virtuale no 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 che il virtuale box è sulla macchina fisica quindi devi collegare all'utilizzo il della macchina nel server fisico qua archiviazione qua per esempio per poter aggiungere dischi virtuali o aggiungere le due dischi virtuali per quello che mi serve per esempio devo fare una sperimentazione di come funzionare un RAID software su Linux su altri sistemi 4 euro il controllo a SAP virtuale aggiungo un altro disco fisso e quindi è come se l'avessi un computer con due listi fissi all'interno oppure da volando un po' cioè non è una cosa proprio normale però potrei condividere lo stesso disco tra macchine virtuali differenti c'è il problema di capire chi è che ha il diritto di scrivere però offrendo un modo per condividere i dati le nostre quantità di dati tra macchine virtuali differenti audio va bene quello il suo audio creato dalla macchina virtuale viene buttata fuori dalla macchina fisica rete perché ovviamente le quattro risorse principali avendo un computer ovviamente la CPU la RAM il disco e se riesce ad andare in rete e quindi posso qui configurare fino a 4 schede di rete su una macchina virtuale lavorando sul terminale possono arrivare fino a 8 ma vabbè questo è un avvisse neanche più una gara la cosa interessante è capire come sono come le collegate queste dimostrazioni di cui alla fine quelle più importanti sono scheda rompriz e NAT e una cosa un po' strana in scheda su host le due principali sono NAT e scheda rompriz la funzione NAT è quella tipicamente sui router quando uno si collega a internet c'è la funzione NAT sul router che dice tutto quello che c'è collegato dietro di te nascondilo al resto di internet la funzione è simile NAT sui router box è la stessa le macchine virtuali che hanno una scheda di rete configurata in NAT praticamente vengono mascherate poi dal server fisico e utilizzano le configurazioni di rete in maniera condivisa quindi presso tu installi un app un XB o 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 un XB allora si viene mascherato a livello di IP praticamente qui c'è la macchina virtuale qui c'è la tua rete o la rete internet la tua rete in cui esce non sanno cos'è c'è lì ma esce direttamente cioè si viene mascherata come interesse IP è mascherato anche da router è mascherato anche da router è mascherato anche da router ovviamente anche router lo sa non sa cosa c'è si sa che è collegato il tuo computer il mio computer è il tuo computer ma quello che ti hai detto e dopo all'unima che è la tua si ovviamente router vedrebbe che dal mio computer escono pacchetti di IP che hanno delle firme tipiche dei sistemi Linux tipiche dei sistemi Windows che esistono in PSD non per esempio sembra conviene nello stesso computer e quindi ovviamente però questo è un'arte però ogni tanto sarebbe comodo che la macchina virtuale creata possa comunicare direttamente con le altre macchine fisiche configurate nella rete ecco questo è un'arte esatto e quindi configuro in modalità home reset e la metto in porte con una delle interfacce fisiche interfacce di rete insomma disponibili sul computer fisico la scheda la macchina virtuale vedrebbe che ha una scheda di rete che negli effetti è la rete wireless a cui è collegato il computer in questo caso è flugiva e la gioco per chi ha no possono cioè la rete interfaccia radio può essere condivisa porta tutte le varie sono viste come diverse sono viste sono da quel punto di vista indipendente e come se possono produttere differenti collegati con un cavo di rete i wireless corde seriali sono funzioni che non ho mai utilizzato che non mi serviva usb è una funzione per isolare una porta usb del computer fisico e assegnarla in maniera esclusiva a una determinata macchina virtuale se ne faccio un bellissimo esempio ho una chiavetta che sono sicuro ho detto c'è il virus cioè voglio vedere cosa funzioni cosa succede e la metto sul computer con Linux e se utilizzando questo la posizionata usb il sistema Windows vede direttamente la chiavetta usb e la gestisce come se fosse uguale questa le cartelle condivise è il metodo forse anche principale per scambiare dati dal sistema fisico al sistema virtuale qui aggiungo le cartelle che mi interessano in questo caso le risorse di rete del sistema principale non le risorse di rete una cartella del sistema principale anche altre macchine forse conviene farla qua pulita la questa lì lo dai domanda sotto Linux qua lì il diritto viene si 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 ho parlato perché dopo l'archiviazione però la roba pulita si è usare cartelle condivise si può usare qualsiasi no no questa cosa delle cartelle condivise sono poi per ogni specifica macchine virtuale non non le macchine virtuale però se non hai fatto partire le macchine ti serve ok solo l'ultima cosa per l'esecuzione di questa macchina virtuale di prova caricare una ISO per far vedere di parte ok quindi devi avere l'interno di parte io ho registrato perfetto ok le gestation non sono direttore ma le gestation allora le virtual box e gestation sono da mettere per avere alcune funzionalità d'utile una le tante le cartelle condivise se non hai visto le gestation con la funzione di taraperti ecco lo faccio da qua perché è la più comoda però io posso ridimensionare e lo schermo della macchina virtuale si aggiunge automaticamente questo è perché se ho messo le test addition se non se ne mette poi rimaneva bloccato 6 quadrati per 480 per 600 infatti io ho certo visto che non riesco perché devono essere caricate all'avvio del kernel e forse deve essere anche eseguito un demon però questo del demon non si mette il fuoco va bene qua quando si si mette una macchina virtuale e diciamo che per sé che caso di per se dipende da cosa ti serve fare se devi navigare perché vuoi usare una mente protetta dove vai allora usi cui la macchina virtuale che è semplificabile quindi non hai bisogno di particolare prestazioni qualcuno mi ha detto anche che si trova meglio con alcuni modellatori solidi a lavorare in macchina virtuale perché riesce a mascherare l'ambiente fisico e quindi funziona meglio in macchina virtuale che il fisico è un'altra prova è per inserisci perché alla fine la prova importante della prova è questa macchina posso spegnere brutalmente o potrai anche salvare lo stato praticamente quello che fa è salva il contenuto della RAM la salva su disco e la contene dalla macchina proviamo un attimo a salvarla più o meno quello che fa il red desktop adesso io potrei anche spegnere il computer eccetera e ritornare qua a due ore qua io avvio la macchina e se non si rompe qualcosa ti è giusto a posto questa è una funzione comoda tipo c'è un'elaborazione di un programma particolarmente lunga adesso spendo la macchina e sento un aggiornamento ed è nella fase di scaricare gli aggiornamenti non va bene perché assunti di rete il server remoto si vede aggiornato la connessione aspetta a qualche punto e poi inizia bene quindi scaricare gli aggiornamenti non c'è più più della connessione quindi faccio ripartire la macchina e può andare bene e può andare e comunque con questa spegniamo come se distaccasse la corrente in maniera rotale e ne uso questa perchè è più veloce la funzione che volevo mostrare adesso era del copiare la macchina cioè salvare la macchina e copiare c'è un altro modo per riportare alle impostazioni precedenti una macchina già utilizzata provo adesso salvo adesso un file e un momento di testo prova ho salvato qualcosina se non salva bene praticamente questa questi sono diversi strantaggi della macchina originaria che ho installato a gennaio ancora 2016 e praticamente ho fatto l'installazione generica ed ho creato l'istantanea per ciascuna funzione particolare che mi serviva e per esempio qui ho installato un programma un programma è come se avessi creato di standard una macchina virtuale in cui c'è installato un solo programma di amministrazione server e macchine virtuali qui perché mi andava ho creato una macchina virtuale che l'unica modifica che ha è che mi ha installato il driver per la stampante dell'ufficio sono di per sé tutte macchine virtuali dipendenti con alcun interno che ho fatto operazioni differenti ora se io riavviassi la macchina come l'ho spenta mi troverai il file che avevo creato io dico non partire dallo stato uguale modificato ma dall'istantanea precedente cosa fa nel concreto le differenze che erano state create e osservate su un file separato del disco virtuale adesso vi ho detto che qui sia l'istantanea precedente le modifiche le ha cancellate e eseguendo la macchina virtuale vabbè con i tempi non conterrà i file che avevo già creato ovviamente io ho creato un file però può essere stato che una giornata meno è andato male in determinato programma un virus o altre cose al limite per esempio uno potrebbe crearsi una macchina virtuale cui c'è solo un browser usa quella anche per andare sul sito della banca e ogni volta che termina di fare operazioni fare user di un ranking fa io ritorno all'indietro cancella le modifiche fatte e quindi è sempre sicuro di tornare a una macchina pulita come all'inizio ovviamente pulita non vuol dire ragionarla l'albero l'albero dell'istantane ha come radice installato ed è fatta a inizio anno di conseguenza tutte le macchine successive sono solo modifiche di quelle installazioni iniziali se io non c'è modo di recuperare l'installazione iniziale fare aggiornamenti che si poi distribuiscano su tutte le istantanee successive non funziona così ogni foglia singola sarà diventata indipendente l'una dalle altre quindi dovrei fare un aggiornamento di ciascuna di esse come è per questo e per fare il pilone io non ho avuto giù il pilone le varie macchine virtuali per beh una questione di spazio perchè se faccio il pilone ah se si fa il pilone copia il fa l'immagine e quindi anche se e quindi magari nella propria tornata hai solo 100 mega però però 5 5 giga 5 giga 5 giga e quindi solo si riferisce si fa la differenza e e quindi il pilone è un file è un file è un file per esempio installato su un altro un altro un altro un altro un altro un altro è una cosa differente file risposta avanti il tipo che è formato dove posizionarlo faccio avanti qua gli do siccome posso immaginare per macchina virtuale diciamo un programma 70 posso anche mettere le caratteristiche ad utile anche per una distribuzione per dire macchina virtuale per server randu macchina virtuale per modellatore solito e faccio sport e non lo faccio poi poi faccio in porta mi cerco il 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 e quindi mostra le tradizze queste le manche eventuali se tu hai sportato una macchina con un altro dopo rimbotti quella macchina proprio un altro ma parli altro fisco fisco cioè quel portatile e poi non so quindi da me adesso mi devo fare che è totalmente diverso allora totalmente se il mio portatile è in te il tuo il tuo PC no no io scopriamo un ten diciamo però magari un quad core il tuo boss nasconde la struttura fisica che c'è sotto quindi guarda questa è una distribuzione per server e non so minimamente che ha il server però il file distribibile non funziona per i miei soldi non so il suo scopo 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 una cosa che potrei provare ovviamente se uso le istantanee esegno solo macchine virtuali e quelle istantanee sui modi poi effettivamente provo ad eseguire macchine virtuali un giusto simbolo per quella è un vantaggio però siccome in genere ho una macchina virtuale per volta nel servizio questo perché vorrei andare su un'altra macchina virtuale e mostrare le cartelle condivise allora la mia cosa scusa uno non è grave per una certa stampante cioè c'è una decisione di link che so tu lo potrete perché c'è un draio che so sfuso una nuova stradatta per quella richiesta e invece è una condivisione degli altri oggetti per fare una macchina virtuale sull'architario e da lì riuscire a realizzare la stampante del servizio funziona io ho provato con un'altra cosa però questa funzione allora la stampante però in questo caso è la stampante di rete quindi è una cosa semplificata più comoda e se magari una cosa hai da una stampante USB lì si produce il fattore di domanda nel rizzo USB però ammettendo che si viene da USB si puoi fare questo è allora il sistema principale della stampante è la sua se va tutto bene ok e andiamo ho creato sul sistema fisico una cartella qua e vi ho potuto vedere anche se come se fosse una cartella come il video vi ho potuto vedere correttamente per motivi di sicurezza è in sola lettura se io qua passi mi dice è portata la struttura questo è anche per per esempio evitare che se magari c'è un'infezione su una macchina virtuale si propaghi poi al sistema fisico reale una funzione di sicurezza volendo si può mettere già in scrittura la funzione della cartella americana anzi allora più altro facciamo subito la soluzione contaggio automatico questa è una cosa che non si può così cosà perché se io faccio la giornata non me la mostra allora bisogna usare la magia nera scrivere come se si collegasse a non servere più rete bisogna collegarsi così praticamente conoscere non se questa stringa che è sempre identica il box s3 che indica le 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 cartelle è e qua posso andare per fare stambiati in maniera una domanda non 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 sono problemi praticamente come funzioni sicurezza si può dire se non si non se non si no no è che se se ho il computer dove seguo un file allegato strano che non mi fido però ad esempio io ne scopo cartello l'order le cartelle condivise non sono condivise in lettura scrittura ma solo in lettura e quindi il prezzo di si tratterà il discorso che faceva prima massimo del rendere disponibile solo per pensare non per il punto di dar tutto altre domande? dobbiamo scendere per schermo al video se Windows parli su dove il collegale meglio il collegale su Windows questo è lo stesso il mio uso è un troppo di vista si audio adesso il discorso di questa stazione è un discorso di questa stazione di questa macchina virtuale una macchina reale una cosa segnata un giga di rano è un processore una macchina si impalla si impalla una macchina reale e la ventola una macchina la ventola la ventola il sistema può essere che ci sia qualche incompatibilità che praticamente in prestazioni davanti alla virtuale rimanza a giochi strani con il processore della macchina fisica e lo faccia a partire la mano però vi direi che cerca su internet che magari è perché c'è un bagno C'è quello che vuole ricercare, cosa vuole cercare? ...della famiglia! Così adesso non mi venite niente riguardo le stazioni che producono la nostra scelta e sistemi virtualizzati che funzionano meno radium cioè, per dire, una fedora virtualizzata usa meno radium, una fedora di reale cioè, tutta la questione anche di usciti, di cordi, dell'apparato di hardware la famiglia virtualizza molto meno abito da gestire e quindi la parola socializzata quindi... teorica, se la musica... è una cosa più virtualizzata se la musica... non è altro ma lì è un altro problema usa la passante questa... questo è la risposta è un'altra cosa è una cosa più grande è una cosa più grande è una cosa più grande vediamo dei tempi e vediamo di fare anche la super standard perché sono tutti un po' un po' di lunghi grazie e applausi grazie